Eh sì, io ti ho provato, solo che Claudia mi aveva detto che probabilmente aveva un impegno alle sette, però ti provava a passare e ce l'ha fatta, sono felicissima. Sì, sono di corsissima, però mi faceva piacere, volevo sostenere Silvia in queste interviste, vale per quelle che hai già fatto prima, però insomma mi faceva moltissimo piacere esserci. Tu sei presissima sul set adesso, so che… Io ho una piccola pausa adesso e quindi sto cominciando finalmente a riposarmi un attimo, anche perché a un certo punto non sai più cosa dare se non vivi, ecco, diciamo. Eh sì, eh sì. Però insomma tutto ok. Voi come va? Tutto bene? Ma non ci sono, conosco. Ci siamo visti a teatro tanti anni fa, no? Sì, noi ci siamo visti a teatro.